buongiorno a tutti eccoci di ritorno dunque stavamo affrontando il tema del risorgimento abbiamo parlato dei moti del 30 e 31 e abbiamo visto in che modo siano miseramente falliti ecco proprio il fallimento ripartiamo da lì il fallimento dei moti del 30 e 31 coincisero con l'ascesa sostanzialmente di un altro grande protagonista del risorgimento di cui parliamo oggi ovvero Giuseppe Mazzini potete vedere nella slide 1805 1872 questi sono gli estremi cronologici allora Giuseppe Mazzini nasce a Genova appunto nel 1805 e vi ricordo che la Liguria era uno stato autonomo e rimasto uno stato autonomo per molti secoli poi dopo il congresso di Vienna venne deciso di non ricostituirla come non venne ricostituita la serenissima repubblica di Venezia per esempio e di aggregarla al Piemonte per cui Mazzini nascendo nel 1805 e nasce in periodo napoleonico ma subito dopo quel congresso di Vienna in pratica da adolescente si ritrova suddito della monarchia Sabauda suo malgrado e d'altronde tutti i genovesi nutrivano un forte risentimento nei confronti della monarchia Sabauda avrebbero desiderato un po' come tutte le realtà regionali italiane penso soprattutto a Venezia di rimanere autonomi e indipendenti e invece finirono sotto casa Savoia Mazzini nacque in una famiglia della borghesia medio alta era il terzo di quattro fratelli in realtà aveva tre sorelle due più grandi e una più piccola il padre Giacomo era era un medico ed era stato uno dei protagonisti della repubblica ligure al tempo di Napoleone quando Napoleone costituì una repubblica giacobina a Genova 1797 poi però caduto Napoleone decise di ritirarsi più o meno a vita privata di occuparsi del proprio mestiere appunto il medico e dell'insegnamento universitario insegnava anatomia per cui un personaggio colto e benestante sicuramente questa partecipazione del padre alla repubblica giacobina napoleonica la repubblica ligure ebbe in qualche modo qualche influsso sul figlio che non a caso sarà un repubblicano un teorico della repubblica per tutta la vita la madre si chiamava Maria Drago era una fervente cristiana cristianesimo un po' iterodosso vicino al jansenismo a dire il vero e anche essa esercitò un grande ascendente sul figlio Mazzini fu un personaggio che maturò una visione religiosa spirituale della vita niente affatto materialistica seppur distante dal cattolicesimo e il grande senso del dovere il grande senso di coerenza tra pensiero e azione due parole chiave per Mazzini l'esaltazione dello spirito di sacrificio ecco tutti questi elementi probabilmente Mazzini li ereditò dal cristianesimo di stampo jansenista della madre si scrive all'università dopo una piccola parentesi di medicina sulle orme del padre opta per la giurisprudenza e trascorre diversi anni tra gli studi accademici anche lui si deve fare i conti con i moti del 20 21 di cui abbiamo già parlato quelli che scoppiarono a nola e che piano piano si diffusero anche in altre regioni d'italia compresa e compreso il piemonte e lui visse con entusiasmo quei momenti c'è un episodio storico in cui si ricorda Mazzini insieme ad altri compagni di studi universitari che con i bastoni in mano pensato un po' si recarono a casa del governatore Ligure a Genova domandando una costituzione come facevano anche gli altri cospiratori in giro per l'italia poi sappiamo che i moti del 20 e del 21 naufragarono ma sicuramente Mazzini cominciava già a maturare una propria idea politica antimonarchica e a favore di una costituzione repubblicana come poi vedremo meglio in seguito ma soprattutto in quel momento lì i moti del 20 e 21 Mazzini rimase impresso da un altro episodio i moti naufragarono decine se non centinaia di cospiratori dovettero emigrare e Mazzini ricordo un episodio era a Genova sul molo di Genova in cui c'erano decine di italiani che dovevano scappare dalla polizia ed emigrare e cercavano di raccogliere un po' di danaro per potersi poi sostenere all'estero e quindi domandavano la questua per così dire dicendo per i proscritti d'Italia per i proscritti d'Italia cioè per quegli italiani che vengono cacciati dalla propria patria e obbligati ad emigrare e lui era ancora abbastanza giovane era appunto l'anno 1821 era con sua madre gli rimase impressa questa scena e lì probabilmente gli scattò qualcosa dentro e cominciò ad aderire alla causa nazionale e alla visione repubblicana che mirava all'unità d'Italia tanto che furono proprio questi gli anni e lui andava ancora all'università in cui lui cominciò abitudinariamente a vestire di nero e lui disse che infatti spesso anche nelle immagini che ci sono state tramandate e conservate Mazzini ha sempre un'espressione piuttosto austera è vestito sempre con abiti scuri e lui dice di aver apposta vestito in maniera consuetudinaria di nero a indicare il proprio lutto il lutto per la patria italiana patria che ancora non esisteva a dire il vero l'Italia era dai tempi dell'impero romano che non era un'unità politica a sé ma che già nella mente di Mazzini cominciava a rappresentare l'obiettivo che poi avrebbe dato diciamo così senso e significato a tutta la sua vita tanto da vestire di nero a mostrare il lutto per qualcosa che non c'era ancora all'Italia che quindi non era ancora morta ecco però nel suo cuore in qualche modo le cose già stavano così l'ultimo anno di università era l'anno 1827 ma la data è relativa entra a far parte della carboneria diventa membro di una vendita genovese si chiamavano vendite i gruppi locali della carboneria e qui diventa subito un protagonista dotato di grandissime capacità relazionali Mazzini comincia a mettere in contatto i carbonari genovesi con altri carbonari piemontesi e toscani perché sapete che la carboneria tendeva a formarsi in cellule piuttosto autonome mal coordinate ecco Mazzini già cominciava invece a fare rete tra i diversi cospiratori fino a quando giunse l'anno 1830 vi ricordate che nel 30 e nel 31 scoppiò una seconda ondata di moti questa volta alimentati infiammati dalla Francia nell'estate del 30 venne rovesciato a Parigi Carlo X l'ultimo re Borbone in Francia e al suo posto sale al trono Luigi Filippo d'Orlean ecco quei fatti che capitarono a Parigi infiammarono anche altre realtà locali compresa l'Italia per cui i moti del 30-31 che riguardarono soprattutto le regioni del centro Italia Mazzini si entusiasmò per questa nuova ventata rivoluzionaria e cominciò per così dire ad intensificare la propria attività carbonara e questo inevitabilmente gli conferì maggior visibilità un delatore lo denunciò alla polizia e il buon Giuseppe Mazzini venne incarcerato arrestato, incarcerato e trascorse circa tre mesi nel carcere di Savona in Liguria vicino a Genova poi venne rilasciato per assenza di prove però tre anni di carcere gli fece a cavallo tra il 1830 e il 1831 rilasciato nel gennaio del 31 fu però obbligato a prendere la via dell'esilio anche lui come i proscritti del 21 che gli fecero tanta pena ecco anche lui divenne un proscritto e girovagò un pochino dopo pochi mesi già nel marzo del 31 si recò e si stanziò a Marsiglia in Francia lo vedete sulla cartina giunto a Marsiglia Mazzini entrò in contatto con gli esuli italiani c'erano molti emigrati politici presenti a Marsiglia già da diversi anni si calcola che più o meno in tutta la Francia gli emigrati politici italiani fossero 1500 ed altronde i governi italiani facevano ponti d'oro per liberarsi dei cospiratori più che condannarli a morte speravano che prendessero la via dell'esilio e togliessero il disturbo per cui alcune città francesi Parigi e Marsiglia soprattutto cominciarono piano piano ad affollarsi di esuli italiani rancorosi nei confronti della situazione politica che si lasciavano alle spalle ecco a Marsiglia incontra soprattutto due personaggi importanti due come dire politici di razza due cospiratori di razza il primo e più importante era Filippo Bonarrotti in realtà Bonarrotti abitava a Parigi ma a Marsiglia aveva moltissimi seguaci Filippo Bonarrotti era un massone un giacobino di antica data un teorico della rivoluzione radicale in Italia auspicava l'intervento in forze della Francia perché non confidava troppo sulla capacità autonoma degli italiani di ribellarsi e di rovesciare lo status quo e su quell'auspicabile intervento della Francia Bonarrotti teorizzava tutte le sue mire rivoluzionarie rivoluzione che secondo lui avrebbe dovuto prendere avrebbe dovuto non solo mirare all'unità d'Italia ma anche imboccare la strada della lotta di classe e quindi dell'esproprio dei beni a svantaggio dei più ricchi e a vantaggio dei più poveri e delle teorie che poi qualche anno più tardi verranno radicalizzate e sistematizzate in maniera più completa da Karl Marx e da Friedrich Engels nel manifesto del partito comunista 1848 già queste idee cominciavano a serpeggiare per l'Europa il secondo grande personaggio che incontrò a Marsiglia Mazzini era Carlo Bianco Carlo Bianco era pure lui un seguace di Bonarrotti un suo subalterno ed era il leader di una formazione piuttosto violenta che si chiamava Apofassimeni gli Apofassimeni che significa i condannati a morte ecco Carlo Bianco era il teorizzatore del metodo della guerriglia aveva studiato molto bene il caso del Dos de Mayo spagnolo ricordate Napoleone giunge in Spagna gli spagnoli avevano un esercito tra i più come dire dissestati del continente ma ciò non di meno gli spagnoli attraverso la tecnica della guerriglia non a caso il termine guerriglia è un termine spagnolo riuscirono a mettere in scacco la più grande macchina da guerra mai costituita fino a quel momento in Europa l'esercito napoleonico la guerriglia ha questa tecnica del mordi e fuggi ecco Carlo Bianco teorizzava che gli italiani si avrebbero dovuto fare la rivoluzione contro gli austriaci utilizzando questa tecnica della guerriglia d'altronde gli austriaci avevano già dimostrato di essere troppo forti e ogni qualvolta erano scesi in Italia erano sempre riusciti a ripristinare l'ordine quando dovettero scontrarsi contro gli eserciti regolari degli stati italiani ma contro la guerriglia lì si sarebbero entrati in difficoltà tra l'altro Bianco era colui che diceva che imboccando la strada della guerriglia tutte le diverse bande di guerriglieri avrebbero dovuto per ogni loro membro assassinare almeno un austriaco al mese per cui una banda di 20 guerriglieri avrebbe dovuto assassinare 20 austriaci al mese sarebbe stato così diceva Bianco motivo di disonore e di pubblica onta il lasciare le lame delle baionette pulite per troppo tempo le baionette dovevano essere insanguinate periodicamente a scapito del nemico a scapito delle vite austriache ecco questi erano poi i personaggi che Mazzini incontrò a Marsiglia inizialmente ma la cosa durò poco Mazzini aderì proprio al gruppo di Carlo Bianco cioè agli Apofassimeni già nell'estate del 1831 però Mazzini decide di dar vita ad una nuova associazione la famosa Giovine Italia si chiamava giovine perché perché erano ammessi esplicitamente solo coloro che non avevano ancora compiuto i 40 anni quindi gli under 40 per capirci erano ammessi gli over 40 no e questo perché perché Mazzini vedevano i giovani uno straordinario potenziale rivoluzionario chi è che aveva l'energia la voglia la speranza l'ottimismo anche l'ingenuità per dar vita ad una rivoluzione e non certo i vecchi che ormai sono sclerotizzati nel loro mondo sono i giovani la forza vitale di una nazione e su quelli voleva puntare Mazzini diceva così Mazzini la giovecito la gioventù è bollente per istinto irrequieta per abbondanza di vita sembrerebbero quasi parole di Friedrich Nietzsche anche lui un grande esaltatore della filosofia vitalistica qualche secolo più tardi ecco sono parole invece di Mazzini Mazzini che in questo caso si rifaceva anche al pensiero di Jean-Jacques Rousseau il mito del buon selvaggio i giovani non erano ancora abbastanza rodati abbastanza esperti di vita per essere anche corrotti erano ancora abbastanza genuini e vogliosi di cambiare le cose con il passare del tempo l'individuo si corrompe si adagia e ogni afflato rivoluzionario inevitabilmente si smorza certo Mazzini ricevete anche delle critiche per questa cosa un esule italiano per esempio affermava che Mazzini non si fidava altro che di ragazzi e di gente incapace perché evidentemente arruolando solo giovani era anche più facile in qualche modo manipolarli o comunque orientarli secondo una propria visione persone pianzane sono in genere più sagge hanno fatto più esperienza per cui sono anche più difficili da manipolare o da orientare ad ogni modo come sia come non sia Mazzini prese questa decisione quindi si chiamava Giovini Italia Giovini abbiamo detto perché Italia lo si può capire lo scopo detto in maniera molto semplice era la creazione di un nuovo stato lo stato italiano cioè tutta la penisola italica avrebbe dovuto diventare anche una unità politica la Giovini Italia si proponeva inizialmente di coordinare i cospiratori delle varie sette a Marsiglia c'erano diversi gruppi ho citato due nomi Buonarrotti e Carlo Bianco c'erano anche degli altri diversi tra di loro ma tutti in qualche modo miravano all'unità d'Italia ecco questa Giovini Italia inizialmente doveva coordinare far convergere gli sforzi di ciascun gruppo è anche vero però che nel giro di poco tempo Mazzini cambiò idea e decise di fare della Giovini Italia un movimento esclusivo per qualche mese era possibile una doppia appartenenza non lo so agli apofassimeni per dire e anche alla Giovini Italia perché la Giovini Italia doveva solo coordinare gli sforzi comuni però dopo pochi mesi l'appartenenza alla Giovini Italia divenne esclusiva per cui o la Giovini Italia o gli altri gruppi Mazzini fu coraggioso nel prendere questa decisione e d'altronde aveva le idee chiare e lui sapeva benissimo e da questo punto di vista la storia gli dà ragione che un gruppo rivoluzionario è forte nella misura in cui non vi è pluralismo al proprio interno la differenza di opinioni la differenza di posizioni il pluralismo non è una ricchezza è una debolezza un gruppo politico specialmente se rivoluzionario è tanto più forte quanto più è compatto coeso unitario nel suo modo di pensare e di agire e tanto più ci fosse stata armonia e coesione all'interno della Giovini Italia tanto maggiore l'efficacia rivoluzionaria pertanto già nel 1832 ripeto veniva fatto divieto ai membri della Giovini Italia di appartenere anche ad altre associazioni ecco questo gruppo di Mazzini la Giovini Italia si distinse nettamente dalla carboneria ranghi dai quali proveniva anche Mazzini erano moltissimi problemi della carboneria l'avevamo già detto ormai era un modello fallito eccessiva segretezza scarsa coordinazione eccessivo simbolismo e ritualismo problema non solo della carboneria anche della massoneria che andava poi ad offuscare le reali intenzioni politiche dei vari cospiratori ecco la Giovini Italia non aveva più nulla a che fare con questo modello era un modello di tipo nuovo più moderno potremmo dire in genere gli storici affermano che la Giovini Italia assomigliava moltissimo a un partito moderno come lo concepiamo noi oggigiorno cioè è un partito che poteva appoggiare su un proprio sistema di sovvenzionamento tramite le quote dei membri ciascuno pagava una quota oppure tramite le sottoscrizioni da simpatizzanti esterni la Giovini Italia aveva una sua struttura ben particolare fatta di un nucleo centrale che faceva riferimento a Mazzini e di altri nuclei periferici la Giovini Italia aveva un programma ben definito e pubblico cosa che non avevano le varie combriccole carbonare e il programma pubblico era in ultima analisi l'unità d'Italia e l'istituzione della Repubblica di cui parleremo più tardi non a caso il simbolo della Giovini Italia cosa fu? il tricolore quel famoso tricolore che oggigiorno noi sappiamo essere la bandiera d'Italia ma che al tempo ovviamente non era la bandiera d'Italia perché l'Italia non c'era ancora ma che già aveva sventolato nelle repubbliche giacobine del nord Italia nella Repubblica Cispadana nella Cisalpina al tempo delle invasioni napoleoniche no? quel famoso triennio rivoluzionario 1796 1799 e dopo un'ultima caratteristica della Giovini Italia che l'avvicina molto a un partito moderno è il fatto che essa facesse propaganda a mezzo stampa veniva stampato un periodico che si chiamava Giovini Italia i cui articoli venivano scritti per lo più da Mazzini che poi veniva divulgato e diffuso illegalmente ovviamente in tutta Italia o comunque ovunque la rete mazziniana riuscisse a spingersi ecco quello di Mazzini fu un azzardo perché lui si mise in competizione con dei cospiratori di razza ripeto Filippo Bonarrotti era un nome Carlo Bianco era un nome Giuseppe Mazzini entrò in concorrenza sul loro campo creò una nuova associazione la Giovini Italia e la storia gli diede ragione un po' a causa della sua personalità magnetica carismatica un po' a causa della sua straordinaria eloquenza un po' grazie anche alla semplicità del messaggio che veicolava e un po' grazie anche se volete al tono enfatico da crociata con cui ricopriva tutta la sua missione politica Mazzini lo vedremo meglio dopo si considerava una sorta di profeta inviato da Dio la sua era una missione non solo politica ma anche teologica ecco tutti questi elementi furono efficaci perché Mazzini fece della Giovine Italia ma nel giro di pochissimi mesi alla fine dei conti la prima associazione patriottica esule che esistesse in quel tempo giusto per capirci nel giro di poco tempo la Giovine Italia già poteva contare una cosa come 50.000 affiliati distribuiti un po' per tutta Italia in alcune regioni più di altri per cui come dire Mazzini mostrò subito di di essere a sua volta un politico e un cospiratore di straordinaria capacità umana relazionale e in parte anche intellettuale il rapporto con l'Italia andiamo avanti vedete seguendo questo schema per cercare di mettere un po' di ordine in tante parole e lo scopo era creare questo nuovo stato l'Italia come fare sui sovrani non si poteva contare ormai lo aveva dimostrato la storia nei moti del 20-21 e nei moti del 30-31 diversi sovrani che sembravano accondiscendere alla causa dell'unità nazionale poi per un motivo o per l'altro si tirarono indietro lo avevamo già visto Ferdinando I a Napoli Carlo Alberto a Torino Francesco IV a Modena eccetera tanto più che Mazzini appena giunse a Marsiglia pensate un po' pubblicò una lettera aperta a Carlo Alberto re del Piemonte del regno di Sardegna domandandogli di mettersi a capo di un movimento di unità nazionale e ovviamente Carlo Alberto rispose con un viniego non ci pensava proprio Mazzini subì ricevette moltissime critiche lui paladino della repubblica domandava ad un re di mettersi a capo del movimento di unità nazionale tradiva i suoi ideali repubblicani ponendo nelle mani della monarchia sabauda l'avanguardia del movimento di unità nazionale e in effetti non ci fece bella figura Mazzini tentò di salvarsi dicendo che in realtà il suo era un blef aveva scritto quella lettera per obbligare Carlo Alberto ad uscire allo scoperto e quindi per obbligarlo a manifestare una volta e per tutte che Carlo Alberto non aveva la minima intenzione di di guidare un processo di unità nazionale ebbene se non ci si poteva fidare non si poteva contare sui sovrani perché i sovrani italiani è chiaro che erano fedeli all'ordine e alla legalità stabiliti nel congresso di Vienna per rovesciare lo status quo e a questo punto bisognava farlo in maniera illegale e con la forza evidentemente su chi si poteva contare ebbene Mazzini aveva le idee chiare e cioè sul popolo italiano e bisognava educare la nazione italiana o meglio il popolo italiano la nazione non c'era ancora anche se negli scritti di Mazzini popolo e nazione sono spesso termini che si che si sovrappongono bisognava educare il popolo italiano all'idea di nazione inculcare l'idea di nazione di stato unitario nella mente di milioni di italiani 20 milioni italiani e abituare piano piano gli italiani ad una mentalità rivoluzionaria in modo tale che la rivoluzione quando fosse scoppiata avrebbe coinvolto tutti gli italiani di tutte le classi sociali non solo le classi medie e le classi colte come accadde con i moti del 20-21 e del 30-31 questa è una cosa molto importante mi soffermo un attimo per Mazzini ciò che muove le masse su questo aveva l'idea molto chiare è l'idea non l'interesse materiale cioè Mazzini diceva se noi vogliamo stimolare le masse alla rivoluzione non dobbiamo fare leva sugli interessi materiali dei singoli individui non dobbiamo come dire affermare che è giusto fare la rivoluzione semplicemente perché così le classi povere potranno migliorare un pochino la loro condizione sociale perché fare leva sui bisogni materiali significa diceva Mazzini al massimo dare vita ad una sommossa non ad una rivoluzione chi scende in strada utilizza la violenza per avere un salario più dignitoso appena ottiene quel salario più dignitoso si accontenta le sommosse ottengono poco dal punto di vista di Mazzini per rovesciare completamente lo status quo non bisogna gettare benzina sul fuoco dei bisogni materiali bisogna fare leva su un'idea su un grande ideale su una prospettiva d'insieme per la quale gli individui sarebbero pronti anche a dare la vita è l'idea secondo Mazzini che muove la realtà materiale e non la realtà materiale che modifica le idee da questo punto di vista è molto simile alla mentalità di Hegel e completamente diverso invece dalla filosofia di Marx il grande motore della storia è lo spirito è l'idea sono le idee che si ripercuotono nei cambiamenti sociali materiali e concreti della vita quotidiana non sono i cambiamenti della vita quotidiana che si ripercuotono sulle idee questa visione idealistica prettamente idealistica di Mazzini però aveva anche un punto debole evidentemente perché da un lato Mazzini affermava che inculcando l'idea di nazione presso gli italiani questi avrebbero dato vita ad una rivoluzione e avrebbero finalmente ottenuto la libertà nei confronti dei vari sovrani ma dall'altro lato per poter inculcare l'idea di nazione presso gli italiani c'era bisogno della libertà d'azione perché evidentemente quel tipo di propaganda che faceva Mazzini era fuori legge era illegale era sottoposto a censura per cui la posizione di Mazzini cade in un circolo uffizioso inculcare l'idea di nazionalità per ottenere la libertà ma preventivamente c'è bisogno della libertà d'espressione quantomeno per poter inculcare l'idea di nazionalità e di questo circolo virtuoso erano consapevoli anche i contemporanei e di fatto fu uno dei problemi che poi decretò il fallimento della politica mazziniana però Mazzini era uno testardo per Vicace fino all'ultimo tentò fallendo di far scoppiare rivoluzioni ad ogni pie sospinto in Italia per giungere a questo obiettivo Mazzini cercò di creare una rete di cospiratori ovunque potesse in Italia attraverso dei suoi emissari e in effetti la giovane Italia si diffuse con una buona diramazione soprattutto nel centro nord e cioè in particolare nella Liguria nella Toscana nella Lombardia e nella Emilia nell'Emilia il Piemonte era ancora legato alla figura di Filippo Bonarrotti il sud Italia invece praticamente era privo di simpatizzanti della giovane Italia ce ne erano molto pochi ecco e attraverso questa rete capillare che andava estendendosi Mazzini martellava con la propaganda evidentemente e quindi veniva distribuito quel periodico di cui vi parlavano che si intitolava Giovini Italia che veniva letto soprattutto dalla classe media e da alcuni studenti universitari e anche da qualche membro del clero in tutto questo Mazzini era il centro di una fittissima corrispondenza pensate che gli storici affermano che Mazzini in tutta la sua vita scrisse all'incirca 50.000 lettere 10.000 delle quali sono state conservate sono a disposizione degli storici e la sua era un'attività veramente febbrile riusciva a scrivere decine decine di lettere al giorno per stare in contatto il più possibile con tutti i suoi emissari distribuiti un po' ovunque c'è anche da dire che questo fitto scambio epistolare però si restituiva a Mazzini un'idea distorta dell'Italia Mazzini non avrà mai il polso della situazione non riuscirà mai a monitorare esattamente le dinamiche politiche sociali che attraversavano la penisola in quel momento nonostante tutta questa rete di informatori che faceva capo a lui un po' a causa dei traviamenti della sua psiche tendeva ad enfatizzare le notizie positive che gli pervenivano e invece a svilire o a derubricare come poco importanti tutte le informazioni più negative dall'altro lato gli stessi informatori che si rapportavano con Mazzini spesso e volentieri non erano affidabili ecco questa cosa poi gli giocherà dei brutti scherzi negli anni successivi come vedremo la strategia rivoluzionaria era abbastanza semplice una volta preparato il campo e inculcata l'idea di nazione bisognava passare ai fatti un binomio che è sempre legato alla figura di Mazzini è pensiero ed azione è uno slogan che lui ripeteva spesso il pensiero deve immediatamente sfociare nell'azione l'azione non può procedere a caso deve essere ispirata da una buona strategia di partenza e in effetti a questo binomio Mazzini rimase fedele più o meno tutta la vita la strategia rivoluzionaria era questa far esplodere alcuni moti nel mezzogiorno anche se nel mezzogiorno in realtà la giovanità aveva scarsissimi simpatizzanti anche se questo Mazzini non lo sapeva non se ne rendeva conto dal mezzogiorno contagiare la Liguria e il Piemonte che sarebbero diventati il vero centro di irradiamento della rivoluzione e a quel punto lì obbligare l'Austria che vi ricordo possedeva il Lombardo Veneto ad attraversare il confine e a dichiarare guerra al Piemonte quantomeno per riportare ordine al di là del confine Mazzini faceva conto che faceva affidamento a questa invasione di intervento austriaco perché qualora gli austriaci fossero intervenuti in battaglia a quel punto tutti gli italiani avrebbero messo da parte i loro cronici e storici contrasti e si sarebbero coalizzati contro il nemico comune contro lo straniero contro gli austriaci il metodo di guerra doveva essere quello teorizzato da Carlo Bianco cioè dividere i cospiratori i rivoltosi per bande e dar vita ad una guerriglia che alla lunga avrebbe logorato l'esercito austriaco e non solo durante tutto il periodo della rivoluzione e anche nei momenti successivi Mazzini fece propria un'idea di Bonarrotti e di Bianco e c'è quella di istituire una dittatura da un punto di vista politico tutte le fasi della rivoluzione sarebbero state accompagnate e controllate da una superiore dittatura formata appunto dai dirigenti delle varie associazioni cospiratrici e questa dittatura sarebbe poi rimasta anche a rivoluzione finita per poter consolidare l'obiettivo finalmente raggiunto questa era in estrema sintesi la visione complessiva di di Mazzini vi dicevo dal pensiero all'azione tra il 1833 e il 1834 ci sono quindi una serie di tentativi rivoluzionari tutti orchestrati da Mazzini e non solo lui tutti falliti peraltro il primo tentativo fallito risale ai primi mesi del 1833 in realtà quello fu un tentativo che venne soppresso prima ancora di prendere vita Mazzini stava organizzando un tentativo insurrezionale in Piemonte la polizia ne ha sentore prima ancora che scoppiassero i primi disordini ci sono una serie di rettate una serie di arresti e una serie di condanne a morte Carlo Alberto è inflessibile voleva dare delle condanne esemplari vengono condannati a morte 12 cospiratori e altri 100 vengono sbattuti in galera il messaggio doveva essere molto chiaro non c'era nessuna possibilità di rovesciare con la violenza e con l'illegalità l'ordine legale costituito pensate che proprio in questa occasione finisce in galera anche un grandissimo amico di Mazzini Jacopo Ruffini il quale temendo di 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 dover confessare i nomi di dover fare i nomi dei suoi commilitoni decise di togliersi la vita in carcere pur di non parlare in una maniera anche piuttosto atroce riuscì a rimuovere un chiodo dalla porta del carcere in cui era rinchiuso e si tagliò la gola con il chiodo Mazzini si sentì responsabile per tutta la vita di quella morte di quel suo grande amico lo stesso Mazzini però venne condannato a morte in contumaccia cioè in assenza perché lui era a Marsiglia e di conseguenza fu obbligato diventava un personaggio politico estremamente scomodo anche per la Francia fu obbligato a lasciare Marsiglia e a recarsi a Ginevra in Svizzera lo vedete qui sulla nostra cartina ecco nonostante il fallimento e l'esito sanguinario di questo primo tentativo rivoluzionario Mazzini poteva lo stesso trovare motivi di gioia in un certo senso o di ottimismo perché affermava che queste condanne a morte in realtà offrivano alla sua causa e alla causa della nazione italiana i primi martiri Mazzini diceva così è bene che le persecuzioni rinfieriscano ora dovunque tante più persecuzioni se interpreto bene tanto meglio perché perché i martiri sono coloro che alimentano la 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 capacità e l'efficacia di una causa la voglia di combattere per una causa e i martiri diventano immediatamente il simbolo che può aizzare molti altri anni per cui con una mentalità molto pragmatica Mazzini plauda queste prime condanne e si intestardisce nel suo progetto nel suo progetto rivoluzionario e effettivamente effettivamente dopo questo primo tentativo fallito moltissimi seguacci di Filippo Buonarrotti smagnosi di entrare in azione ma ancora passivi seguendo la linea di Buonarrotti decidono di lasciare il vecchio Giacobino Buonarrotti e di schierarsi con Mazzini che sembrava molto più intraprendente e molto più avezzo all'azione che non Buonarrotti stesso per cui alla fine aumentò anche il numero dei suoi seguaci il Buon Mazzini ovviamente non demorse e pochi mesi dopo siamo sempre nel 33 tentò di dare vita a un nuovo tentativo insurrezionale questo fu forse il fallimento più imbarazzante di tutta la carriera di cospiratore di Mazzini perché linea teorica nell'estate del 33 doveva scoppiare una rivoluzione nel mezzogiorno tutto sembrava pronto gli informatori dicevano che tutti i membri erano coordinati la corrispondenza andava avanti e indietro Mazzini era fiducioso il giorno in cui doveva scoppiare la rivoluzione era l'11 agosto del 33 che cosa accadde? non accadde assolutamente nulla fu un giorno come tutti gli altri cioè la rivoluzione si era fermata solo nella carta nella corrispondenza e nelle intenzioni non accadde assolutamente nulla Mazzini fece una figura pessima da un punto di vista politico e il suo personaggio cominciò come dire a subire le prime pesanti critiche era il secondo grande fallimento e questo tutto sommato molto più imbarazzante del primo nel giro di pochi mesi ma Mazzini non demorde c'è un terzo tentativo nel 34 questo è quello più famoso di questo periodo Mazzini era a Ginevra era ancora convinto che bastasse una scintilla per far esplodere la polveriera italiana e decide di dar vita a un nuovo tentativo insurrezionale anche perché voleva dimostrare che non era necessario come pensava il buonarrotti l'intervento dei francesi per alimentare le tensioni rivoluzionari in Italia gli italiani bastavano a se stessi e lui voleva dimostrarlo anche con questa azione qui qual era in questo caso il progetto il progetto era di invadere la Savoia la Savoia è questa regione qui che vi sto indicando in questo momento è una regione che faceva parte del regno del Piemonte come vedete nella cartina e che poi invece verrà passata alla Francia ancora oggi la Savoia è francese l'idea era quella di invadere la Savoia con una colonna di volontari circa un migliaio poi in realtà saranno solo 200 anche lì per vari problemi organizzativi più o meno contemporaneamente far esplodere una rivoluzione a Genova in modo tale da aumentare il disordine e prendere le truppe regge-sabaude tra due fuochi il nemico interno a Genova il nemico esterno dei volontari e in questa cornice anche procedere all'assassinio politico del re del Piemonte Carlo Alberto Mazzini e la Giovine Italia anche negli anni successivi rimasero sempre aperti all'idea dell'assassinio politico dei governanti in questo modo Mazzini contava di scatenare una sanguinosa guerra tra Francia e Austria perché creato il disordine in Piemonte e vedete che il Piemonte fungeva proprio da elemento separatore tra l'Austria del Lombardo Veneto e la Francia scatenando questa grande guerra tra Francia e Austria si sarebbe creato il disordine e si sarebbero create quelle condizioni ideali per dar vita ad una rivoluzione e unificare la penisola italica questo era un po' il progetto oltremodo ottimistico in realtà cosa accadde? che fu un fiasco completo ancora una volta ed è il terzo nel giro di un anno e mezzo alcuni esuli liberali considerarono questo tentativo di Mazzini cito una immensa coglioneria un'immensa coglioneria aperte chiuse le virgolette questa è l'espressione testuale perché cosa accadde? che questa colonna di circa 200 uomini giunse ai confini con la Savoia vedendo che all'interno della Savoia non c'era nessun tentativo insurrezionale ma che anzi stava giungendo l'esercito i cospiratori decisero di tornarsene a casa e nel frattempo a Genova non si mosse assolutamente nessuno se non a dire il vero questo è importante un giovane marinaio della marina piemontese militare in carriera nativo di Nizza aveva 26 anni e si chiamava Giuseppe Garibaldi ecco Giuseppe Garibaldi militare in carriera nella marina piemontese simpatizza con gli ideali mazziniani ed è praticamente l'unico che a Genova si attiva veramente per dar vita a questo tentativo di rivolta ma fu praticamente l'unico e in tutto questo c'è da aggiungere un ultimo elemento non solo la colonna di cospiratori non entra nella Savoia ci rinuncia torna a casa prima di valutare il confine non solo a Genova non si muove nessuno ma eravamo nel febbraio del 34 e in Savoia faceva molto freddo aveva nevicato e le strade erano o ghiacciate o impantanate per cui erano le condizioni peggiore per stimolare una rivoluzione perché le comunicazioni erano estremamente difficili anche qui un elemento che mostra la scarsa capacità di Mazzini di organizzare rivolte sul piano pratico fu un grande teorico delle rivoluzioni un grande teorico del connubio pensiero e azione ma poi fu sempre molto scarso nell'organizzare concretamente le rivoluzioni medesime il fallimento di questo ennesimo tentativo rivoluzionario ebbe anche qui un esito disastroso moltissimi congiurati fuggirono all'estero chi in Francia chi in Svizzera chi addirittura in Nord Africa qualcuno in Spagna ad alimentare i disordini in Spagna perché era in atto una guerra civile lo stesso Mazzini deve fuggire da Ginevra a Berna lo vedete sempre qui sulla cartina un altro esule di spicco lo citiamo era un sacerdote piemontese Vincenzo Gioberti che dovette fuggire a Bruxelles lo citiamo perché poi sarà uno dei grandi protagonisti del rinascimento e il teorico del pensiero cosiddetto neo-guelfo lo stesso Garibaldi che ripeto fu uno dei pochi a muoversi a Nizza venne immediatamente individuato come cospiratore e obbligato a fuggire infatti venne poi condannato a morte e sarebbe stato condannato a morte se nel frattempo non fosse fuggito dove fugge Garibaldi si reca fa un percorso un po' travagliato giunge a Marsiglia da Marsiglia si imbarca per il Sud America scappa in Sud America e in Sud America dimostrerà di avere la rivoluzione nel sangue perché la creerà una legione italiana per combattere a favore dell'indipendenza dell'Uruguay dal dominio coloniale spagnolo e per moltissimi anni darà vita a continue rivolte contro gli spagnoli stessi ecco perché Garibaldi verrà chiamato l'eroe dei due mondi il mondo diciamo europeo italiano e il mondo sudamericano ecco proprio in Sud America noi non apriamo in questo momento il capitolo di Garibaldi ma proprio in Sud America più precisamente nel 1844 in Uruguay a Montevideo Garibaldi verrà anche iniziato alla massoneria diventerà un massone e farà carriera all'interno dei ranghi gerarchici della massoneria infatti vedete queste sono due immagini che provengono dal museo della simbologia massonica di Firenze per la massoneria fu sempre un vanto nonché motivo di propaganda poter vantare Giuseppe Garibaldi tra i propri membri questo vedete è un manifesto prodotto dal Grand Oriente d'Italia e la loggia massonica tuttora esistente più importante in Italia in cui viene riportata l'effigie di Garibaldi con la scritta sono massone Giuseppe Garibaldi vedete addirittura Gran Maestro nel 1864 perché come vi dicevo Garibaldi poi scalerà tutti i ranghi gerarchici della massoneria fino a diventarne Grande Maestro e molte logge massoniche si ispirarono all'esempio di Garibaldi vedete qui questo gonfalone loggia Giuseppe Garibaldi con Garibaldi in camicia rossa no? e Garibaldi poi tornerà in Italia nei decenni successivi quando le condizioni politiche cominceranno a cambiare vedremo più avanti come e quando comunque tornando a Mazzini Mazzini ebbe diverse colpe diverse responsabilità nel fallimento di questo tentativo fallito l'ennesimo e venne criticato da tantissimi esponenti liberali e democratici criticato di mandare al massacro moltissimi volontari criticato di teorizzare la rivoluzione di esaltare lo spirito del sacrificio anche del martirio standosene però tutto sommato seduto comodo all'estero quindi di mandare a morire gli altri senza rischiare in prima persona e Mazzini dovete fare i conti con queste critiche tanto che la giovine Italia visto il fallimento di questi tre tentativi entrò in crisi e già nel 1835 Mazzini ne abbandona la direzione e fondamentalmente scioglie questa associazione che risorgerà un po' più avanti ma per il momento viene sospesa ecco infatti che poco dopo nasce la giovane Europa e apro una parentesi alcuni storici si sono domandati se non sia possibile considerare Garibaldi e Mazzini soprattutto Mazzini dei terroristi visto la loro teorizzazione della violenza la loro teorizzazione dell'assassinio politico e del sacrificio del martirio e uno storico in particolare Paul Ginzburg inglese afferma che no non possono essere considerati dei terroristi perché in quel contesto storico bisognava distinguere tra una violenza gratuita e una violenza inevitabile e quella teorizzata da Mazzini più che non Garibaldi era una violenza inevitabile e di conseguenza non può essere considerato un terrorista è certo che sarebbe anche piuttosto imbarazzante se gli storici classificassero Mazzini uno dei padri della patria italiana come un terrorista comunque chiusa parentesi la giovine Italia entra in crisi vi dicevo Mazzini deve emigrare ancora una volta a Berna e a Berna fonda una nuova associazione un nuovo gruppo vedete che Mazzini non si arrende mai rimane sempre ancorato ai suoi disegni idealistici che però cozzavano continuamente contro una realtà che non si adeguava mai alle idee alle ispirazioni alle sensazioni di Mazzini crea questa giovane Europa la giovane Europa aveva uno scopo simile a quello della giovane Italia ovvero solo con un orizzonte più ampio cioè coordinare tutti i movimenti nazionali d'Europa cioè coordinare gli sforzi di tutti quei popoli che ancora non avevano uno stato per affinché potessero ottenere uno stato e quindi soprattutto gli italiani i polacchi e i tedeschi tre popoli che ancora non avevano un proprio stato si divisa in tre grandi branche la giovane Europa la branca più importante era però quella tedesca in realtà anche in questo caso Mazzini non poter raccogliere nessun risultato concreto tanto che addirittura un biografo di Mazzini nei confronti di questa nuova iniziativa la giovane Europa parlò di mera spacconata questa nuova impresa di Mazzini non era altro che una spacconata cioè un atto di orgoglio di altezzosità privo però di contenuti effettivamente lo stesso Mazzini riscontrando i risultati molto scarsi cadde nella disperazione e cominciò a non fidarsi di nessuno cominciò a nutrire un sentimento molto pessimistico nei confronti dei suoi compatrioti in generale dei rivoluzionari o dell'essere umano poco propenso a sacrificarsi per le nobili idee per le quali combatteva Mazzini tanto è vero che questa sua estrema disillusione e amarezza nei confronti degli esseri umani concreti lo portò per opposizione come dire ad intensificare l'amore per le idee astratte e per gli animali tanta era l'amarezza nei confronti degli esseri umani tanto per contrappasso l'amore per le idee astratte e per gli animali e questo ci restituisce bene lo stato d'animo di un Mazzini ormai quasi disperato a un certo punto disse in una lettera me più cara ad ogni modo la compagnia di un gatto che quella di un uomo se tu sapessi che altero e rabbioso dispetto ho io per gli uomini se tu vedessi che riso satanico ho sulla mia bocca per essi ecco qui è un Mazzini che ormai è quasi in preda alla disperazione Mazzini che ormai era conosciuto in tutta Europa come il rivoluzionario per antonomasia e che quindi divenne sempre di più un personaggio estremamente scomodo da ospitare all'interno dei propri confini tanto che anche la Svizzera nel 1837 decide di cacciarlo e di obbligarlo ad un nuovo esilio questa volta Mazzini fugge a Londra dove pur erano ospitati molti italiani e da quel momento in poi Mazzini trascorrerà la maggior parte della propria vita proprio nella capitale inglese tra l'altro ironia della sorte capitale inglese ricordiamo che era governata da una monarchia e Mazzini era un repubblicano per eccellenza monarchia che però entrando un po' in contraddizione forse con le proprie convinzioni Mazzini riconosceva essere estremamente aperta in termini di libertà di pensiero e di libertà sociali cioè una monarchia che riusciva a garantire quei diritti quelle dinamiche politiche che Mazzini pensava essere legate solamente alla forma di governo repubblicana e comunque insomma Mazzini alla fine trascorse gran parte della propria vita a Londra sotto un regime monarchico e non ebbe più di tanto a lamentarsene a dire il vero ma ad ogni modo quando giunse in Inghilterra il povero Giuseppe Mazzini vi ripeto era un uomo distrutto già sul finire degli ultimi mesi del 36 cadde preda della famosa tempesta del dubbio come la chiama lui e cioè cominciò a nutrire seri dubbi sulla propria missione politica forse io errava dice Mazzini e il mondo aveva ragione forse tutti gli sforzi che ho profuso in questa missione rivoluzionaria erano effettivamente sforzi vani e sbagliati magari nella vita ho sbagliato tutto è chiaro che per chi si era esposto come lui sulla sua testa pendevano diverse condanne a morte per cui non era uno scherzo per chi aveva preso quella strada di vita quella missione questo dubbio doveva essere devastante ormai non poteva più tornare indietro tanto più che a Londra sì c'erano italiani ma lui si isolò conosceva poco la lingua restava spesso a casa i primi mesi furono molto difficili tanto che disse Mazzini in quei mesi mi sembrava di toccare i limiti della follia e addirittura cominciò ad accarezzare pensieri suicidi la situazione economica era abbastanza precaria campava con quel poco che i suoi genitori potevano inviargli ricordiamo che il padre era medico e professore universitario per cui aveva una certa disponibilità economica ma certo non riusciva a soddisfare tutti i bisogni del figlio a mantenerlo nel suo esilio londinese campava con qualche traduzione e dopo si diede al giornalismo conobbe uno dei filosofi liberali più famosi dell'Inghilterra del tempo John Stuart Mill il quale lo arruolò presso un giornale in virtù del quale insomma poteva sbarcare il lunario avere di che vivere conobbe anche un altro grande intellettuale a Londra Thomas Carlyle e piano piano cominciò ad aprire il proprio orizzonte e ad assestarsi in quel nuovo in quel nuovo clima londinese nel 1838 vedete Mazzini si riprende la tempesta del dubbio era finalmente superata pervicace come sempre decide di rilanciare la giovine Italia e perché si spinse verso questa direzione per due motivi sostanzialmente in Inghilterra c'era un certo movimento sociale il movimento cartista era molto forte il movimento cartista era quel movimento supportato dalle trade unions cioè dai sindacati sostanzialmente che nel 1838 aveva redatto ufficialmente una carta del popolo da cui appunto movimento cartista che tra le altre cose rivendicava per esempio il suffragio universale maschile ecco questa ventata di novità che Mazzini poteva respirare in Inghilterra ancora una volta lo illuse che un po' tutta l'Europa fosse pronta per un nuovo balzo rivoluzionario e soprattutto l'Italia e ancora una volta tra parentesi si sbagliava ma oltre a questo motivo ce n'era un altro che lo spinsero a rilanciare la giovine Italia e cioè il fatto che in Italia ormai da qualche anno c'era un proliferare di associazioni segrete liberali o democratiche tutte volte in un modo o nell'altro a istituire un nuovo stato lo stato italiano e Mazzini considerava uno spreco di energia il proliferare di tutte queste associazioni lo chiamava una sorta di protestantesimo politico perché come i protestanti abbandonando la guida del Papa si sono frammentati e riframmentati e riframmentati al proprio interno così le società politiche del tempo viceversa diceva Mazzini bisogna vambire ad un cattolicesimo politico vedete Mazzini prende sempre a prestito molto spesso il lessico religioso cattolico svuotandolo del suo significato e riempendolo con nuovi significati cosa intendeva con cattolicesimo politico il fatto appunto che tutti gli sforzi dei cospiratori dovessero essere coordinati da un'unica grande mente in questo caso la giovine Italia che fungesse da base per tutti gli sforzi rivoluzionari e da qui la decisione di rilanciare la giovine Italia ancora una volta dal pensiero all'azione decide Mazzini di collaborare con una serie di cospiratori nel sud Italia e ci sono una serie di tentativi rivoluzionari che ancora una volta indovinato un po' falliscono soprattutto falliscono tre tentativi rivoluzionari in Calabria e in Romagna tra il 43 e il 45 tre tentativi che a dire il vero dipendevano solo indirettamente dalla figura di Mazzini ma che ciò non di meno contribuirono ad affossare più o meno definitivamente la sua figura e la sua politica perché è vero che quegli ultimi tentativi parlo di questi qui che vedete nella slide 43-45 è vero che quegli ultimi tentativi fondamentalmente poco dipesero dalla progettualità mazziniana ma è anche vero che chi era il grande teorico internazionale che continuava a battere sullo stesso tasto la necessità di sacrificarsi la necessità di versare sangue la necessità del martirio e così via era Mazzini per cui tutte quelle quei tentativi insurrezionali direttamente o indirettamente ma avevano un padre morale avevano un mandante politico morale che era Mazzini e inevitabilmente ogni fallimento di quei tentativi rivoluzionari doveva poi come dire ricadere negativamente se non sulla figura di Mazzini quanto meno sulla sua politica e sulle sue idee e sulla sua strategia rivoluzionaria per cui tra il 43 e il 45 ormai Mazzini subisce per così dire il colpo definitivo alla propria politica cito solo di questi tre tentativi ne cito uno più famoso degli altri che è il famoso tentativo dei fratelli Bandiera i fratelli Bandiera tentano di di sbarcare in Calabria per favorire la sollevazione contadina che erano questi fratelli Bandiera erano degli ex ufficiali veneziani quindi della marina austriaca e che sposano la causa di Mazzini e con altri con Militoni una ventina in tutto nel 44 sbarcano in Calabria loro pensavano di trovare una situazione sociale ormai sul punto di esplodere e invece indovinate un po' ancora una volta quando i fratelli Bandiera sbarcano in Calabria trovano la quiete più totale anzi gli stessi contadini che dovevano essere i primi a ribellarsi erano estremamente sospettosi di questi stranieri che facevano che erano armati e facevano discorsi strani l'unità d'Italia l'Italia non si sapeva neanche cosa fosse nelle campagne d'accordo per cui si resero conto ancora una volta i fratelli Bandiera e i loro colleghi comilitoni cospiratori che le informazioni ricevute non corrispondevano alla realtà non fecero tempo a ritirarsi vennero arrestati dai soldati borbonici processati e condannati a morte mediante fucilazione ecco i fratelli Bandiera ripeto sono di origine veneziana a Venezia rimangono molte testimonianze a loro ricordo questo qui vedete è il campo di San Giovanni della Bravora e questa qui è la casa di Attilio ed Emilio Bandiera tra l'altro è lo stesso campo la stessa parrocchia dove venne anche battezzato Antonio Vivaldi ma questo è un altro discorso ma ancora per esempio qui è un campo famoso di Venezia il campo dei Santi Giovanni e Paolo questa è la scuola grande di San Marco attualmente ospedale e questa è la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo chiamata anche Zanipolo una delle più famose di Venezia domenicana ecco proprio qui qui all'interno oltre a trovare il panteone dei doji della Serenissima sono conservate le spoglie di moltissimi doji trovate anche il monumento funebre dei due fratelli Bandiera e di Domenico Moro che era un altro veneziano che aveva partecipato all'impresa e che pure venne fucilato assieme ai fratelli Bandiera ma ancora così se andrete a Venezia potrete vedere di persona questa è piazza San Marco se uscite dalla piazza da questo lato qui vi trovate in Bocca di Piazza cosiddetto qui ci sono le effigie i bassorilievi di moltissimi pateoti veneziani trovate anche questa targa qui vedete dedicata ad Attilio ed Emilio Bandiera e a Domenico Moro per dire insomma che nella realtà veneziana e soprattutto venete e soprattutto veneziana i fratelli Bandiera hanno lasciato un ricordo importante anche loro vennero fucilati e il loro caso fece scuola in tutta Europa e contribuì ripeto ad affossare in un modo o nell'altro la causa politica di Mazzini il quale era quello che diceva che l'angelo del martirio è il fratello dell'angelo della vittoria c'è bisogno di martiri per poter alimentare la causa della vittoria e però il sangue ormai versato cominciava ad essere copioso e soprattutto a non ottenere alcun risultato ecco a contribuire all'affossamento della politica rivoluzionaria mazziniana contribuì in maniera determinante anche la pubblicazione di un libro diventato molto famoso correva l'anno 1843 e a Bruxelles quel sacerdote piemontese che vi citavo prima Vincenzo Gioberti dava alle stampe il suo libro più famoso che si intitola Del primato morale e civile degli italiani ecco è un testo fondamentale che funge da pilastro del pensiero neo-guelfo sul quale adesso non possiamo soffermarci in sostanza Gioberti rifiutava la metodologia di Mazzini cioè la rivoluzione violenta e rifiutava anche lo scopo ultimo l'esito auspicato da Mazzini una repubblica unitaria viceversa secondo Gioberti l'Italia avrebbe dovuto diventare una federazione di stati quindi il progetto era di tipo federalista tutti gli stati avrebbero dovuto unirsi in una federazione presieduta dal Papa e fu un pensiero molto forte che scalzò il pensiero di Mazzini e che sopravvisse questo pensiero federalista neo-guelfo fino al 1848 quando scoppiò la prima guerra di indipendenza passiamo ora alla seconda parte di questa nostra lezione che anticipo state tranquilli è più breve della prima e cioè approfondiamo minimamente il pensiero politico di Mazzini allora sappiate che Mazzini fu un autore estremamente prolifico la UTET ha pubblicato un libro che si intitola scritti politici di Mazzini in cui raccoglie tutti gli scritti politici sono più di 1100 pagine ok ecco noi adesso non facciamo sintesi di quelle 1100 pagine do solo qualche indicazione sulla visione complessiva del pensiero Mazziniano lo stesso Mazzini si rese conto ad un certo punto che doveva procedere a redigere una sintesi del suo pensiero e lo fece nel 1835 dando alle stampe fede e progresso un testo che riassume un po' tutto il suo pensiero ma che pure noi non approfondiamo in questa sede qui noi diciamo poche cose giusto per inquadrarne complessivamente il pensiero allora innanzitutto la complessiva visione politico religiosa di Mazzini Mazzini percepiva il proprio ruolo la propria missione come una missione profetica non a caso nei suoi scritti spesso e volentieri fa riferimento quasi paragonandosi detto tra parentesi a Lutero a Maometto allo stesso Gesù Cristo cioè a grandi come dire fondatori di religione o a grandi riformatori del passato e forse la madre ebbe un ruolo in tutto questo la madre confermò il figlio Giuseppe in questa sua convinzione di essere il prediletto del Signore come diceva lo stesso Mazzini qual era il messaggio profetico di cui si faceva veicolo il buon Giuseppe ma in sostanza era questo cioè che Dio si rende presente sulla terra o si rapporta con gli uomini non nella chiesa cattolica anzi la chiesa cattolica ormai aveva esaurito la sua funzione storica non aveva più nessun senso di esistere secondo Mazzini Dio si rapporta agli uomini non nella chiesa cattolica come però fu lo stesso Gesù Cristo a dire ma attraverso i popoli cioè la mediazione tra Dio e l'uomo non è la chiesa ma è la nozione la realtà l'entità del popolo popolo o nazione che dir si voglia perché come vi ripeto spesso negli scritti di Mazzini popolo è sinonimo di nazione cosa intende Mazzini con popolo una comunità di uomini più o meno quello che intendevano tutti gli scrittori e i teorici di quel periodo una comunità di uomini uniti da una serie di caratteristiche la lingua il passato le tradizioni il territorio la razza queste caratteristiche però dice Mazzini sono solo un indizio della nazione cioè se interpreto bene sono elementi necessari ma non sufficienti per poter costituire un popolo una nazione l'elemento prioritario che conferisce identità a un popolo è l'autocoscienza del popolo stesso cioè la consapevolezza dei singoli individui di appartenere ad una realtà più grande comune appunto il il popolo ecco a partire da questi criteri non era sempre facile evidentemente distinguere quali fossero i limiti e le divisioni tra un popolo e l'altro lo stesso Mazzini anche se non si concentrò mai su questo argomento però almeno col senno di poi possiamo dire aveva le idee un po' confuse per esempio lui non simpatizzò mai con il nazionalismo irlandese l'Irlanda nel 1800 era già stata fagocitata all'interno della Gran Bretagna aveva completamente perso la propria indipendenza politica e gli irlandesi volevano tenerla come i polacchi come i cospiratori italiani Mazzini non ci credeva in realtà in questo aveva torto perché poi sappiamo che finita la prima guerra mondiale gli irlandesi riusciranno a ottenere l'indipendenza nazionale con la creazione dello stato libero di Irlanda ma ancora Mazzini per esempio in qualche suo scritto auspicava la fusione tra spagnoli e portoghesi non rendendosi conto che invece sono due popoli diversi auspicava la fusione degli tre stati scandinavi svedesi norvegesi finlandesi potevano essere tutti racchiusi in unico grande stato in altre occasioni auspicava la fusione dell'Olanda con la Germania del Belgio con la Francia insomma tutte cose che poi la storia ha sconfessato però l'idea di popolo era questa che vi ho descritto cioè una comunità di persone che aveva quelle caratteristiche e che soprattutto elemento fondamentale fosse cosciente della comuna appartenenza alla superiore realtà del popolo ecco i popoli o le nazioni sono comunità volute da Dio dice Mazzini il suo messaggio politico è intriso di teologia sono comunità volute da Dio alle quali Dio affida delle particolari missioni ogni popolo esiste perché è voluto da Dio e perché Dio vuole che quel popolo svolga un certo compito compiti che in realtà Mazzini non specificò mai più di tanto era una visione teorica e complessiva più che un programma politico vero e proprio abbiamo dei riferimenti a tre nazioni in particolari Italia Germania e Polonia perché vi ripeto italiani tedeschi e polacchi erano tre popoli che ancora non avevano uno stato per cui erano i popoli che più di tutti gli altri secondo Mazzini avrebbero dovuto innalzare il vessillo della libertà il vessillo della nazione e farsi esempio per tutti gli altri faccio notare una cosa apro qui di una parentesi Mazzini parla spesso di popolo italiano però c'è anche da dire che il sentimento patriottico maturato da Mazzini non si basava affatto su una conoscenza concreta empirica della realtà italiana e di tutte le divisioni contrasti le diversità che caratterizzavano i popoli italiani non esisteva il popolo italiano esistevano i veneti con una loro identità i lombardi esistevano i piemontesi esistevano i campani i siciliani che non andavano d'accordo con i campani non c'era il popolo italiano se il popolo è definito dalla consapevolezza di una comuna appartenenza in Italia il popolo italiano non c'era per nulla di fatto il sentimento patriottico maturato da Mazzini si basava su che cosa sulla letteratura in particolare sui testi di Ugo Foscolo qui possiamo citare le 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 che fu un testo che disse Mazzini mi infanaticirono cioè mi resero fanatico in pratica le divorò e finì quasi con il conoscerle a memoria e un altro autore che stimolò il patriottismo di Mazzini fu Dante Dante però letto e anche distorto secondo le categorie personali di Mazzini insomma lui parlava di popolo italiano ma la sua era ancora una volta una visione ideale per nulla concreta per nulla empirica ma ad ogni modo italiani tedeschi e polacchi avrebbero dovuto essere come dire gli spartiacque per questa nuova epoca del futuro che avrebbe aperto un nuovo periodo ovvero il periodo dell'Europa delle nazioni dei popoli di questi tre popoli soprattutto l'Italia aveva un ruolo particolare perché l'Italia era sede del cattolicesimo e quindi Dio aveva conferito l'Italia secondo Mazzini una missione particolare quella di abbattere una volta per tutte il papato e mettere fine al Medioevo si capisce benissimo quindi che il concetto di divinità che aveva Mazzini non centrava nulla con il Dio cattolico evidentemente il Dio mazziniano conferiva all'Italia la missione di abbattere una volta per sempre il papato e quindi dopo una prima Roma la Roma dei Cesari ci fu una seconda Roma la Roma dei Papi che avrebbe dovuto essere abbattuta a favore di una terza Roma che finalmente sarebbe stata luce per le genti avrebbe potuto inaugurare la nuova età della unione civile così come la chiamava Mazzini cioè l'unione dei popoli che finalmente avrebbero potuto costituirsi in stati e avrebbero potuto vivere in maniera armonica tra di loro ecco lo scopo ultimo era una composizione armonica di stati in cui nessuno prevaricasse sull'altro se il settecento era stata l'epoca della Francia l'ottocento era l'epoca in cui Dio conferiva all'Italia questa missione particolare farsi essa soprattutto interprete e strumento di questa azione divina nel mondo portare alla nascita dei nuovi popoli delle nuove nazioni per una pace universale una visione piuttosto astratta poco come dire poco palpabile e che tuttavia fu sufficiente per infiammare il cuore e la mente di Mazzini e non solo anche di tutti i suoi seguaci ecco per Mazzini era fondamentale questa cosa che un popolo si costituisse in nazione era una sorta di battesimo ancora una categoria teologica svuotata del suo significato originale è riempita con un significato politico con il battesimo il singolo fedele diventa figlio di Dio a tutti gli effetti riceve lo spirito santo che lo trasforma ontologicamente dall'interno rendendolo figlio di Dio e di conseguenza fratelli di tutti gli altri battezzati se tutti i battezzati diventano figlio di Dio tutti i battezzati diventano fratelli tra di loro ecco il popolo che diventava nazione attraversava questa sorta di rito di iniziazione poteva finalmente dirsi fratello di tutti gli altri fratelli vedete come ancora una volta il pensiero di Mazzini diventa una sorta di teologia politica ci avviamo verso la fine più concretamente come vedeva Giuseppe Mazzini il futuro dell'Italia cosa uspicava per l'Italia l'Italia nella visione di Mazzini avrebbe dovuto diventare repubblicana democratica e unitaria lo vedete nella slide tre parole chiave repubblica democrazia unità cosa significa repubblicana significa appunto istituire un regime politico repubblicano quindi assolutamente antimonarchico in cui tutti i singoli individui avrebbero potuto dirsi uguali fratelli e avrebbero potuto partecipare in qualche modo alla gestione del potere per cui il primo obiettivo da raggiungere per poter istituire la repubblica era rovesciare con la forza rivoluzionaria quindi illegalmente evidentemente al di là della legge dell'ordine costituito tutti i sovrani che risiedevano in Italia che risiedevano secondo l'ordine legale del congresso di Vienna e quindi bisognava rovesciare il borbone al mezzogiorno bisognava rovesciare il papato bisognava rovesciare e cacciare gli austriaci nel nord Italia e istituire finalmente una repubblica repubblica che sarebbe stata democratica e quindi con democrazia intendeva soprattutto Mazzini la possibilità di ottenere il suffraggio universale e quindi in questo senso il pensiero di Mazzini si oppone al pensiero dei liberali per esempio che invece sostenevano un suffraggio censitario ma poi soprattutto la repubblica italiana mazziniana avrebbe dovuto essere fortemente unitaria ecco questo aggettivo unitario si oppone nel concettualismo politico di Mazzini ad altri filoni politici importanti e diffusi al tempo per esempio si oppone al federalismo Mazzini era un feroce critico del federalismo perché l'Italia diceva Mazzini era stata frammentata per secoli in tante piccole signorie in tanti stati regionali in tanti odi e contrasti di parte il federalismo non avrebbe fatto altro che alimentare questi scontri storici presenti nella penisola italiana da sempre e alimentando queste discordie locali il federalismo non avrebbe fatto altro che indebolire l'Italia indebolirla al cospetto delle grandi nazioni con cui confinava che invece erano stati coesi e compatti al loro interno cioè la differenza interna non è fonte di arricchimento ma ancora una volta il pluralismo la differenza interna le grandi fratture che c'erano tra una realtà regionale o provinciale e un'altra erano viste come elementi di debolezza di assoluta debolezza è l'unità che fa la forza la differenza fa la debolezza e il federalismo non avrebbe affatto altro che alimentare questa diversità e quindi di conseguenza rendere molto più vulnerabile il nuovo stato italiano per poter viceversa alimentare un senso di unità e di coesione era necessario utilizzare i simboli le idee come vi dicevo prima e quindi per esempio esaltare il ruolo di Roma con tutto il significato e la tradizione che questa città portava con sé la terza Roma sarebbe stata un simbolo fulgido di luce che avrebbe presto illuminato tutti gli italiani inducendogli a raccogliersi e a stringersi attorno ad un'idea comune e lasciando in disparte le differenze e i contrasti culturali che da secoli hanno caratterizzato la penisola ma ancora questo aggettivo unitario si oppone non solo alla visione federalista ma anche alla concezione che poi verrà chiamata marxista cioè si oppone radicalmente alla lotta di classe Filippo Bonarrotti e poi Karl Marx e Friedrich Engels teorizzavano la lotta di classe cioè i poveri devono armarsi e rovesciare con la forza la classe borghese la classe dei benestanti quello è l'unico modo possibile per ottenere l'eguaglianza materiale tra le classi e quindi la giustizia e la concordia Mazzini non poteva accettare questa questa visione infatti Mazzini sarà sempre un ferocissimo oppositore del marxismo non accettava né la lotta di classe tipica del marxismo né i presupposti atei e materialistici tipici del marxismo per cui sia in termini metafisici sia in termini di filosofia politica Mazzini e Marx sono molto distanti distantissimi proprio perché Mazzini auspicava la massima unità del popolo la lotta di classe e cosa fa? spacca il popolo esattamente in due e quindi poveri da una parte e ricchi dall'altra Mazzini non era contrario al miglioramento delle classi più povere anzi ma sosteneva che il miglioramento delle condizioni del proletariato possiamo chiamarlo dovesse avvenire attraverso delle riforme sociali o attraverso delle istituzioni appositamente volte a quello scopo non attraverso lo scontro sociale e tantomeno Mazzini ammetteva di mettere in dubbio il diritto naturale alla proprietà privata la proprietà privata doveva rimanere come dire un diritto inalenabile degli individui secondo Giuseppe Mazzini cosa che invece non era nelle logiche né di Filippo Bonarrotti né tantomeno di Marx e di Engels Ancora quell'aggettivo unitario e qui finiamo si oppone anche per certi aspetti a ad alcuni assunti tipici del liberalismo Mazzini da un lato apprezza il pensiero liberale perché lo considera un ottimo antidoto contro l'assolutismo il liberalismo afferma che gli individui siano dotati di diritti assoluti naturali inalienabili che nessun governo può compromettere quindi il diritto alla proprietà privata il liberalismo afferma che gli uomini devono essere tutti formalmente uguali cioè tutti uguali di fronte alla legge tutte cose positive per Mazzini per le quali egli elogia il pensiero liberale dall'altro lato però Mazzini mosse anche diverse critiche al pensiero liberale perché dice il liberalismo è un ottimo strumento per smantellare l'assolutismo la monarchia ma è un pessimo strumento per costruire cioè per costruire l'unità del popolo effettivamente il pensiero liberale cosa afferma che ogni individuo ha la massima libertà di pensiero e di comportamento fino a quando non intralce la libertà altrui per cui secondo il pensiero liberale ogni individuo può assumere lo stile di vita che vuole può prefiggersi gli scopi che vuole può credere nei valori che più ritiene veri e di conseguenza il liberalismo mette in crisi l'unità dello Stato uno Stato è forte se i valori su cui poggia dice Mazzini sono dichiarati certi come i dogmi religiosi sui dogmi religiosi non si discute per un cattolico che Dio sia uno e trino non può essere messo in discussione se lo fa cioè se nega la trinità non può più essere considerato cattolico cioè per definizione il cattolico crede nella unitrinitarietà di Dio ecco la stessa certezza di cui godono i dogmi religiosi deve anche caratterizzare le verità dello Stato se viceversa le verità dello Stato su cui poggia lo Stato i valori fondanti dello Stato sono messi in dubbio possono essere messi in dubbio pensiero liberale afferma proprio questo che la libertà di pensiero è illimitata ecco allora dice Mazzini che si apre lo spazio per il pluralismo ideologico per la pluralità delle opinioni ma questo secondo Mazzini è deleterio perché la pluralità delle opinioni può essere risolta in ultima analisi solo con un atto di forza viceversa afferma Mazzini o meglio viceversa auspicava Mazzini che la nuova Italia repubblicana avrebbe individuato dei valori fondanti così forti così accattivanti così luminosi da poter come dire armonizzare le opinioni di tutti gli italiani e unificare il popolo e costituire una base fondante solidissima non suscettibile di discussioni di controversie politiche il popolo sarebbe stato così uno libero partecipe del potere attraverso la democrazia all'interno di un contesto repubblicano privo di quelle discordie interne che alla lunga portano a sfaldare i popoli bene noi ci fermiamo qui vi ringrazio per l'attenzione e ci vedremo le volte prossime proseguendo il nostro percorso sul risorgimento saluti saluti di un commento